Identificato, ma il nome resta ancora top secret, il secondo Mr. X coinvolto nell'inchiesta calcio scommesse. Dopo Carlo IV, quindi, gli inquirenti hanno individuato il secondo uomo che, secondo l'accusa, consegnò materialmente ad Andrea Masiello e a Gianni Carella l'acconto di 50.000 euro sui 230.000 complessivi concordati per l'autogol di Andrea Masiello nel derby Barilecce del 15 maggio del 2011, che si concluse 0-2. Quella rete causò la sconfitta in casa dei biancorossi e soprattutto la permanenza del Lecce in Serie A. Secondo quanto ipotizzato dalla procura di Bari, la consegna del danaro avvenne in due occasioni. Al primo incontro nell'hotel Tiziano di Lecce, il 22 agosto 2011, erano presenti Masiello, Carella IV e il suo socio. Era invece assente l'altro loro presunto complice, arrestato e ora ai domiciliari, Fabio Giacobbe. I due sono stati identificati nel corso degli interrogatori resi dai tre arrestati nel carcere di Bari e sono stati definiti come vicini a Pierandrea, figlio del patron del Lecce, Giovanni Semeraro. Intanto a Bari, durante la conferenza stampa, il capitano biancorosso, Francesco Caputo, si dice amareggiato per la vicenda nella quale è coinvolto il suo ex compagno di squadra, Masiello. Nessuno se lo aspettava. Purtroppo ci pensi e dici come ha fatto, come ha potuto fare una cosa del genere. Purtroppo sono cose che ti passano per la mente, però non ti sai dare male è una spiegazione, perché sono cose che comunque fanno male. Se ci pensi ci stai pure male, perché comunque sono stati i tuoi ex compagni alla fine, tra virgolette. E quindi non lo so, ti ripeto, non ho voglia di parlare di queste cose, perché ci può fare solo male.